Buonasera da Marco Capulli, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo subito con la cronaca parapiglia sul treno regionale Firenze-Arezzo ieri sera. Una donna ubriaca ha infastidito i passeggeri del convoglio ferroviario. I viaggiatori impauriti hanno chiamato la capotreno che una volta giunta al vagone dove era la molestatrice che infastidiva i viaggiatori le ha chiesto di scendere dal treno ma lì si è scambiata contro, tirandole i capelli e poi colpendola in testa con alcuni pugni. La 43enne brasiliana, autrice dell'aggressione, è stata denunciata per lesioni personali e in torruzione di pubblico servizio. La vicenda risale alla serata di ieri quando i carabinieri di Pontassieve sono intervenuti presso la locale stazione ferroviaria. Il convoglio è rimasto fermo per circa un'ora nella stazione di Pontassieve dove sono arrivati i militari dell'arma e i sanitari del 118. La capotreno è stata portata in ospedale a Bagno a Ripoli e ha riportato lesioni giudicate e guaribili in dieci giorni. Invece per la 43enne, oltre alla denuncia, è scattata anche una sanzione amministrativa per ubriachezza. Chiama il 118, gli si rompono le acque e quando arrivano i volontari soccorritori in ambulanza grazie al loro tempestivo intervento partorisce in casa. Greta Settimelli È arrivata questa chiamata al 118 e qual era la richiesta di soccorso? Una rottura delle acque come ormai facciamo praticamente quasi tutti i giorni. Ci aspettavamo il classico trasporto in ospedale pensando che dovesse nascere. Sono le 8 del mattino quando arriva una chiamata alla centrale operativa del 118, un parto imminente. Sul posto arrivano i soccorritori della misericordia di Arezzo ma non avrebbero mai pensato come sarebbe andata a finire questa chiamata. In città. Quindi comunque dici vabbè ci arrivo in ospedale? Sì, sì ci sarebbe arrivati bene. E invece? E invece quando siamo arrivati lì la collega che è entrata per prima in casa mi ha detto cioè ci siamo quindi si fa qua. Abbiamo preso tutto il materiale che ci serviva e abbiamo proceduto a fare tutte le nostre manovre che i nostri istruttori ci insegnano tutti i giorni. Il bimbo aveva davvero fretta di nascere, peraltro un mese prima. Sì, finiva il tempo verso la metà di aprile e è voluto nascere prima. Andrea e Luisa non sono infermieri ma sono due soccorritori di livello avanzato della misericordia di Arezzo. Hanno così chiamato la centrale 118 e coordinato con loro l'intervento. Il lieto evento è stato portato a termine felicemente assieme ai sanitari giunti sul posto con un'auto medica. Prima di iniziare il tutto abbiamo chiamato il 118 avvisando insomma del fatto e ci hanno prontamente inviato l'auto medica. All'arrivo dell'auto medica il bambino era già ancora la mamma e tutto a posto e lì siamo proceduti con l'accesso al pronto soccorso, il trasporto in codice rosso. Ad accogliere mamma e nascituro un ginecologo e un pediatra già avvisati dai sanitari il 14 marzo sarà una data che zia Luisa e zio Andrea di sicuro non dimenticheranno. La mamma che cosa vi ha detto quando è nato? All'inizio c'era preoccupazione anche da parte sua perché comunque un parto in casa poi dopo si è tranquillizzata quando ha visto il bambino che comunque reagiva era molto felice della cosa. Incidente stradale oggi nel primo pomeriggio in via Vittorio Veneto ad Arezzo i sanitari dell'emergenza urgenza dell'Aside Toscana Sud-Est sono intervenuti per prestare soccorso ad un minorenne investito da un veicolo mentre attraversava la strada. L'episodio si sarebbe verificato alle ore 14.20 circa nei pressi dell'incrocio semaforico di Campo di Marte il giovane è stato trasportato in codice verde all'ospedale San Donato di Arezzo sul posto alla misericordia e l'automedica oltre alla polizia municipale per i rilievi. Erano diventati noti perché in sei aggredirono un sessantenne in piazza Sant'Agostino ora sono stati arrestati a Milano, tre di loro, per rapina avrebbero aggredito e rapinato un giovane in una piazza si tratta di due italiani e uno di origine straniere uno di loro è anche minorenne erano stati denunciati dalla squadra mobile di Arezzo con la cosa di aver barbaramente aggredito un sessantenne in piazza Sant'Agostino che aveva avuto la sola colpa di aver chiesto loro di tenere a Guinseglio il loro cane a quasi tre mesi di distanza l'episodio era avvenuto il primo di dicembre 2022 tre dei sei giovani che facevano parte del gruppo che ha seminato paura tra gli aretini sono stati tratti in arresto a Milano per aggressioni e rapine avvenute lo scorso 22 e 23 di febbraio i tre avrebbero avvicinato un 21enne spagnolo che passeggiava in compagnia di un amico e lo avrebbero picchiato e scippato di orologio e portafogli poi i tre si sarebbero dati alla fuga e le vittime li hanno rincorsi fino a quando non si sarebbero imbattuti in una volante che poi è intervenuta a proseguire l'inseguimento a bloccare i tre ragazzini arrestati due maggiorenni e condotti a San Vittore mentre il minorenne è stato accompagnato nel penitenziario di Torino Amarsi dentro è il titolo dello slogan che i ragazzi del liceo coreutico di Arezzo hanno portato in piazza San Jacopo per realizzare un flash mob sulle note di giovanotti in occasione della giornata del fiocchetto Lilla per la lotta ai disturbi del comportamento alimentare che affisce sempre di più i giovanissimi Chiara Sadotti Amarsi oltre allo specchio significa che dobbiamo amare chi si riflette nello specchio e non l'immagine che spesso è una cosa che si tende a fare Oltre allo specchio amarsi dentro è questo il messaggio che i giovani studenti a Rettini hanno voluto lanciare da piazza San Jacopo nel giorno del fiocco Lilla Per sensibilizzare la popolazione per aiutare anche a chiedere aiuto questo secondo me è un elemento importante perché chiedere aiuto aiuta i genitori anche a trovare una risposta per la sofferenza dei figli e trova ai ragazzi anche poi una risposta adeguata Il 15 marzo è la giornata dedicata ai disturbi dell'alimentazione una patologia in continua crescita con un'età di esordio sempre più bassa Le stime dicono che lo 0,7% della popolazione soffre di disturbi anoressici e l'1-2% di bulimia di questi il 70% sono persone giovani la tendenza è all'abbassamento dell'età interessa indubbiamente la fascia degli adolescenti in modo significativo e in modo sempre più importante rispetto alla sintomatologia L'evento è stato organizzato per sensibilizzare giovani adulti sul delicato tema da parte delle varie realtà del territorio aretino che si prendono cura della patologia Campania Lime sono una sofferenza la sofferenza quindi la tristezza emozioni più intense del solito comportamenti che prima un figlio non aveva quindi un genitore sicuramente non è facile con individui di studi ma poi nel tempo può capire che suo figlio ha qualcosa di diverso Gli alunni dell'indirizzo coreutico del liceo Piero della Francesca sulle note di intenzione evolutiva hanno voluto lanciare il proprio messaggio Il più che torilla infine vuole essere soprattutto un messaggio di speranza Non si torna a vivere quando siamo guariti ma si torna a vivere piano piano e questo penso che sia un messaggio importante non aspettiamo il finale ma iniziamo a vivere piano piano durante il percorso di cura E si celebra in questi giorni a Cadrezza la settimana internazionale del Glaucoma un appuntamento di sensibilizzazione per la prevenzione della cecità Sentiamo Vivi senza macchia, metti in chiaro la tua vista Questo è il messaggio per la settimana mondiale del Glaucoma che si celebra sino al 18 marzo Un appuntamento annuale dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione delle cecità in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti alla quale è aderito anche l'azienda sanitaria Il Glaucoma è una malattia dell'occhio legata alla pressione oculare che colpisce circa un milione di italiani metà dei quali non lo sa Se la patologia viene lasciata al suo naturale decorso può portare anche alla cecità nei casi più gravi e quindi diventa fondamentale intervenire in prevenzione perché una diagnosi tardiva ha meno probabilità di arrestare questo decorso in fausto L'invito è quello ad effettuare una visita oculistica senza rimandare Nel confronto delle patologie degenerative agire un po' in anticipo perché sappiamo che comunque non esiste una cura definitiva sulla degenerazione quindi a differenza di una infezione che io do un antibiotico e risolve nell'arco di qualche giorno in un periodo limitato la patologia degenerativa richiede delle cure lunghe e queste cure sono tanto più efficaci quanto prima noi interveniamo con i vari strumenti terapeutici che nel caso del Glaucoma sono terapia medica e talvolta intervento chirurgico Per la settimana del Glaucoma le associazioni hanno unito le forze in una serie di appuntamenti dai controlli oculistici agli incontri divulgativi e alla distribuzione di materiale informativo Mi arrendo, chiudo la libreria Termina così l'avventura di Mondadori ad Arezzo per il caro bolletto e le restrizioni Covid oltre alla concorrenza Oggi è stato l'ultimo giorno dietro la vetrina di Via Roma della libreria Mondadori per il proprietario Angelo Brunetti dopo anni di presenza ad Arezzo di questo grande marchio la crisi ha massacrato anche lui Brunetti da domani lascerà i suoi libri per dedicarsi ad un altro lavoro sul quotidiano La Nazione ha lanciato perfino un appello sì, lancio un appello ai vostri lettori per un commiato degno di questo nome e per un eventuale lavoro Il gruppo Mondadori potrebbe però riaprire in futuro nello stesso spazio di fronte ai portici con un altro titolare E andiamo a un altro argomento parliamo di PNRR è sempre difficile pronunciare questa sigla perché sono stati avviati i primi cantieri a Pieve, Santo Stefano e a Badia Tedalda per il bando di rigenerazione dei borghi con un maxi investimento di oltre 2 milioni di euro messi a disposizione appunto dal PNRR tra i lavori da eseguire un campo pratica per mountain bike un percorso ciclopedonale lungo il Tevere una palestra a cielo aperto la sistemazione di un'area sportiva accanto alla palestra comunale ma sentiamo i dettagli nel prossimo servizio Alle mie spalle esagerà il campo e bike per fare pratica con il mountain bike che è un pezzetto del grandissimo progetto di PNRR che insieme a Pieve, Santo Stefano e a Badia Tedalda hanno messo insieme con la collaborazione di Caserma Archeologica Un maxi investimento di oltre 2 milioni di euro per un campo pratica per mountain bike un percorso ciclopedonale lungo il Tevere una palestra a cielo aperto ma anche la sistemazione dell'area sportiva accanto alla palestra comunale e molto altro ancora sono così iniziati sia a Pieve, Santo Stefano che a Badia Tedalda i primi interventi frutto del progetto La Repubblica delle Foreste custodi dell'Alpe della Luna che si è giudicato il bando del PNRR Insieme abbiamo intercettato queste risorse il progetto è stato fatto veramente bene curato da Caserma Archeologica con la collaborazione dei nostri uffici e quindi abbiamo colto questa opportunità ripeto, 2 milioni e passa mila euro di denaro nei due piccoli comuni delle aree interne che faranno tanto bene alla fruibilità turistica alla fruibilità dei nostri residenti e alla possibilità di erogare più servizi ai nostri cittadini I lavori partono oggi per quali progetti? Per il campo pratica di mountain bike per il sentiero lungo il Tevere e per i campi sportivi a Pieve, Santo Stefano A Badia Tedalda è già affidato il lavoro per il recupero del sentiero che conduce dal centro di Badia alla zona dedicata ai campi sportivi e dove si trova anche la scuola Tutte queste attività, anche quelle di cantieri hanno poi un elemento fondamentale nella gestione affidata alle associazioni e territori che con il progetto vedono implementato quanto già facevano e quindi in una dimensione di collaborazione si cerca di fare meglio per i cittadini ma anche per i turisti e chi vorrà anche trasferirsi in questi luoghi La dorsale dell'Alpe della Luna è in qualche modo ciò che unisce i due territori del progetto i boschi di Via Maggio all'insegna di un turismo più sostenibile legato principalmente al mondo della natura e delle biciclette Abbiamo puntato molto sulle biciclette sui percorsi lenti quindi sulle piste ciclopedonali per collegare parti interne dei nostri comuni ma anche per collegare Badia a Pieve, Santo Stefano questo è una delle strategie Adesso parliamo di musica perché c'è l'ufficialità delle date si svolgerà dal 4 al 9 luglio prossimo la nuova edizione 2023 del Mango Music Festival sulla scia del successo sanremese sul palco aretino ci sono già nomi importanti che ipnotizzeranno la patria estiva del parco del Prato ad Arezzo il primo nome è quello di Comacose risaltati a grande pubblico con il brano L'Addio presentato proprio all'ultimo festival di Sanremo l'altro nome è quello di Baustelle la band di Montepulciano con all'attivo 8 album pubblicati e uno in uscita la data dell'esibizione di questi due artisti sarà il 7 luglio per questi concerti sono già aperte le prevendite online rimarranno invece all'ingresso gratuito le serate del 4, 5, 6 e 9 luglio intanto pare che ci siano già altri nomi importanti nel panorama musicale tra gli ospiti e tra i concerti che verranno fatti proprio all'Ermengo ma al momento non sono ancora stati resi noti e rimaniamo nell'ambito artistico perché Alvia, Arezzo Nascosta la rassegna musicale organizzata da Oida con il trio Contro il Tempo che si è esibito nella prima uscita nei locali 1AR Teatro anche questi di una visita per il pubblico al Museo dell'Oro Chiara Sadotti è tornata la stagione dell'Arezzo Nascosta la rassegna musicale targata a Oida con un primo appuntamento con il trio Contro il Tempo nella sede dell'azienda Orafa 1AR che ha aperto le porte al pubblico con una visita guidata al Museo dell'Oro Ed è l'unico museo dedicato all'Oroficeria in Italia per noi rappresenta davvero un motivo di orgoglio e anche in qualche modo un simbolo di quanto la nostra azienda è legata al territorio addirittura qui si parla dell'anticolo popolo etrusco dal quale comunque abbiamo origine e si ripercorrono cento anni di storia Cinque in tutto saranno le tappe del percorso della stagione dove le formazioni da camera suoneranno in spazi a volte inusuali ma sempre con un messaggio di bellezza, curiosità e scoperta Il trio Canto, Violoncello e Pianoforte ha portato in scena il concerto Viaggio Originale tra le più belle melodie del mondo È un'idea particolarissima che ci ha coinvolto molto perché non esistono in realtà formazioni come la nostra soprano, violoncello e pianoforte e soprattutto non esiste repertorio proprio per questo molti compositori hanno deciso di trascrivere per noi alcune tra le più belle melodie del mondo che veramente vanno dalla Francia all'America, Cuba, all'Argentina all'Italia stessa È un viaggio emozionante con sonorità completamente nuove e poi noi però siamo state, diciamo, brave a riunirci, a lavorare insieme a trovare questa sintonia ci siamo anche divertite molto E la soddisfazione più grande è farlo all'interno di una formazione tutta il femminile anche questa è una cosa abbastanza singolare e soprattutto è singolare andare molto d'accordo insieme tra artiste Cugliamo con lo sport L'Arezzo archiviata la storica impresa di Livorno L'Arezzo torna a lavorare per il campionato mancano sette giornate alla fine con un vantaggio di sette punti sulla prima inseguitrice che è la Pianese che prima era avanti di cinque punti e poi scavalcata con un allungo fino al traguardo di domenica scorso delle sette lunghezze Sabato nell'anticipo al comunale arriva il Monte Spaccato che è in salute viene da una serie positiva un mese fa sembrava condannata all'escendenza invece adesso ha ritrovato la speranza di salvarsi indiani intanto dovrà stare attento questa volta perché gli amaranto nella scorsa giornata sono andati all'ardenza sapendo e conoscendo già il risultato della Pianese mentre adesso la situazione è ribaltata e toccherà ai bianconeri affrontare la partita di domenica con il città di Castello conoscendo già l'esito della gara dell'Arezzo concorrenza guerrita per quello che riguarda il reparto avanzato riguardo appunto l'undici che indiani dovrà mettere in campo sabato Gaddini è stato completamente recuperato Pattarello a Livorno ha sfornato una signora partita e sia Abramante che Convitto scalpitano e vorrebbero essere della gara punto fermo Gucci e con Persichini via di miglioramento dopo il malanno alla schiena l'Arezzo ha anche lo ricordiamo tre diffidati che sono Castiglia Risaliti e Settembrini ancora ha differenziato il lavoro per Poggesi anche se in via di miglioramento domani seduta pomeridiana e venerdì alle 14.30 la rifinitura a porte chiuse questa era l'ultima notizia per questa sera grazie per averci seguito buon proseguimento con i programmi di Arezzo TV grazie per averci seguito